Una campagna tesseramenti appena partita, già una decina le adesioni e non semplici rinnovi, come si sottolinea al banchetto della Lega di Piazza Stradivaria Cremona, ed una raccolta firme per dire no allo stop della vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Sarebbe un disastro, dicono i leghisti, perché porterebbe oltre mezzo milione di licenziamenti in tutta Europa e migliaia di fallimenti in Italia. È un provvedimento assurdo, a nostro modo di vedere, perché di fatto consegna tutto il settore dell'automotive e dell'indotto ai cinesi, con grave ripercussione anche sulle tasche dei cittadini. Una transizione ecologica intelligente andrebbe accompagnata e fatta in un altro modo. Per questo motivo siamo qui oggi, la raccolta firme è andata benissimo, per quanto riguarda il problema del divieto della vendita auto e anche il tesseramento sta andando molto bene. Abbiamo già avuto più di una decina, fino adesso, di adesioni anche di persone nuove. Quindi la Lega è viva. La raccolta firme ed il tesseramento proseguiranno domani a Castelleone, Pizzichettone e Soncino.